Una volta dissi a mio marito, guardate un po', dico portami dentro lì perché sai, mi danno le medicine gratis, e mio marito dice, ma io entrare in un manicomio ma fossi matto, non venivo neanche trovati perché è buona questa, perché sai era un manicomio. Finalmente ero persuadato a entrare, ed era domenica, mio marito era dottoriciato a festa e a un certo punto da vicino il poverazzo o pelato, lo guarda, gli guarda gli scampi e poi gli dici, scusa ma tu è tanto che sei paziente.